ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul pazzesco perché ho preso un sacco di cose con i saldi vi faccio vedere non so se riesco a farveli farveli vedere tutti in un video perché ho preso alcune cosucce ma due tre per quanto riguarda la wicom ho fatto una spesetta perché mi servivano alcune cose e quindi ho voluto fare questo questo ordine e poi sono stata direttamente allo store di wicom e ho preso altre cose per quanto riguarda il prezzo e tutto io l'ho preso con il 70 per cento quindi qualsiasi cosa io ho preso è stato tutto con il 70 per cento però giù nell'infobox vi metterò tutto la singola matita il nome e tutto se non si vede bene direttamente qui nel video cioè inutile avvicinarmi e lontanarmi vi faccio vedere così per prima cosa vorrei farvi vedere aspettate che un po' sistemo qua la situazione iniziamo con farvi vedere cosa ho preso ho preso alcune cose di questa linea verde ho preso il primer che si chiama the poor primer questi prodotti non l'ho mai utilizzati l'ho soltanto swatchate e quindi ho preso questo che è se non mi sbaglio è un primer viso lumi matt formulato con acqua di fiori d'arancia di pompelmo contiene attivi anti inquinamento e anti age quindi e minimizzano i pori quindi lo proveremo e ho preso il suo fondotinta meno male che ho visto dei video per quanto riguarda questo fondotinta perché stavo prendendo come sempre la colorazione 01 e invece troppo chiara quindi sarei stata proprio tipo cadavere e quindi no e ho preso la 03 neutral light neutral e questo è il packaging del fondotinta ve lo faccio vedere così velocemente perché ovviamente faremo una full face con tutti i prodotti quindi inutile stare lì a farveli vedere in primis poi ho preso questo che è un highlighter e ho preso lo 02 golden rose ho preso questo perché sinceramente l'altro non mi piaceva il packaging è così sempre col verde è molto molto elegante sinceramente e la colorazione è questa bellezza qua stupendo questo vi faccio lo swatch ovviamente è un rose gold molto molto bello con le luci si vedrà poco ma ovviamente poi si vedrà meglio l'ho messo qua si vedrà meglio quando faremo il video farò il video faremo poi guarderete poi ho preso il mascara e il correttore allora per quanto riguarda il mascara io ne ho presi due perché uno l'avevo preso già online invece l'altro l'avevo preso allo store perché avevo visto lo scovolino nei video mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho voluto prendere allora questo lo conservo e vi faccio vedere proprio il mascara che è bellissimo proprio a me ricorda tantissimo il better under sex di two faced se non mi sbaglio poi correggetemi se sbaglio questo è il packaging sempre con il verde e vi faccio vedere ovviamente lo apro perché devo fare una full face direttamente quindi e questo è lo scovolino a me piace tantissimo questo tipo di scovolino perché mi sistema le ciglia e me le incurva quindi ottimo e questo è un mascara volume quindi da provare assolutamente e poi ho preso due correttori siccome non sapevo che correttore prendere ne ho presi due e ho preso lo 02 e lo 04 perché sinceramente non sapevo che colorazione prendere questo è lo 02 ve lo faccio vedere vi faccio lo swatch perché ovviamente si deve anche vedere questo è lo 02 ovviamente poi ah scusate lo 02 si chiama light beige invece lo 04 si chiama neutral per questo ho preso queste due colorazioni perché il nome sinceramente mi ha convinto convinto a prenderle infatti questo neutral è leggermente più aranciato che quello di sotto è leggermente più aranciato di quello di sopra che è leggermente più giallo quindi da provare assolutamente poi andiamo avanti e ho preso un eyeliner e l'ha scontato questo e ho voluto prendere questo nel pottino perché l'alizzi parla benissimo di queste liner di wicon e quindi l'ho voluto prendere proprio per metterlo dentro l'occhio no buttarlo direttamente così ma utilizzarlo come eyeliner come riga nera dentro l'occhio e sinceramente non l'ho ancora utilizzato quindi lo devo provare e vediamo se è buono poi andiamo sempre avanti e ho preso andiamo con altri correttori perché se non mi sbaglio ho preso altri correttori vabbè allora c'ho un po' un mix ho preso un blush compatto della collezione quick blush qui dice vabbè un fard compatto nella colorazione 06 move ed è così molto molto bello assomiglia tantissimo al colore del blush di astra che è identico aspettate dov'è è qua ve lo faccio vedere perché l'ho utilizzato per questo makeup quindi è identico sì identico qui forse sembra diverso il colore ma è identico ve lo posso assicurare è identico vi faccio lo swatch ed è un malva proprio i colori che sapete tutti che io adoro è un malva che vira sul biscotto ed è il colore che io sto utilizzando in questo periodo e che mi sta piacendo tantissimo poi andiamo avanti e vi faccio vedere lo sto facendo veloce questo video perché sinceramente ho un sacco di cose da farvi vedere quindi vorrei fare direttamente un video invece di fare vari video e spezzettoni poi ho preso un diamond dust che nella colorazione 02 pink perché questi non mi ricordo se avevo preso altri colori ed è questo qua ed è un ombretto glitterato per quanto riguarda gli occhi sono infissa in questo periodo non si apre cioè non si apre ci vorrebbe mio figlio qua sopra ma lo sto rigando tutto cioè gli ho fatto proprio la riga ma non si apre ecco si è aperto allora il colore è questo e ve lo swatcho qui è un rosa io sto prendendo dei colori particolari che di solito non utilizzo questo è un rosa con dei glitterini a me piacciono questi qui perché essendo con il pennellino li potete mettere anche al centro dell'occhio e vi fa un effetto particolare e mi piace poi un'altra cosa che ho preso è un un lip veil liquid nella come si dice per quanto riguarda la collezione di Fiona May e ho preso lo 03 lavender io sono molto scontata in questi colori e questo è il colore mi piace tantissimo è l'unico che sinceramente mi è piaciuto perché ovviamente quando ci sono gli sconti hai una possibilità di scegliere le cose ma io cado sempre nelle stesse è inutile non so se vi capita la stessa cosa a voi ma io sono così questo è lavender ovviamente rimane un pochettino più liquido del solito perché è un veil però un pochettino si aggrappa alle labbra e questa è una cosa che mi è piaciuta perché l'ho sbocciato perché questo l'ho acquistato direttamente là poi un'altra cosa per quanto riguarda le labbra ho preso il lip gloss di questa collezione Love Love nella colorazione 03 coolest vi sboccio anche questo velocemente perché il packaging è fantastico il prodotto, cioè pensate sulle labbra cosa dovrebbe essere questo prodotto è Pace Amen vedete l'alluminescenza bellissimo molto molto bello andiamo avanti e vi faccio vedere un altro eye shadow un ombretto per quanto riguarda gli occhi e in questo caso ho preso la vintage rose la 02 e ho preso questo colore è semplicissimo è un color nude l'ho preso perché spesso mi capita di andare soltanto da mia mamma quindi mi faccio una base proprio per farvi vedere tipo nel frattempo lo sboccio sicuramente avete visto che sto facendo dei video per quanto riguarda primer, fondotinta per farvi vedere la composizione e tutto questo è l'ombretto ed è fantastico sinceramente fantastico e quindi cosa mi capita di mettere un ombretto sugli occhi mascare e vai quindi automaticamente preferisco anche un ombretto così particolare che si asciughi ed è un ombretto semplice non glitterato con tanto fronzoli e quindi mi piace molto allora continuiamo e vi faccio vedere che nel frattempo visto che c'erano svariati sconti ho preso i correttori perché sinceramente mi servivano e volevo provare alcuni correttori nuovi e quindi ho preso la pallambalzo e ho preso questo qui di Wicon ho preso il correttore levigante effetto lifting ovviamente e ho preso il smoothing secret che sarebbero questi qua smoothing secret e ho preso nv20 nv25 e nc20 ve li faccio vedere ve li swatcho velocemente non vedo l'ora di buttare tutte queste scatole perché sinceramente non ce la faccio più con tutte queste cose messe qua allora questo è nc20 questo qui più aranciato poi abbiamo nv20 perché ovviamente per gli occhiai ci vogliono dei colori diversi e io li volevo provare assolutamente volevo provare anche la formula di questi correttori per quanto riguarda Wicon perché tantissimi ne parlano bene quindi l'ho voluto prendere allora il primo che è più marroncino è l'nc20 il secondo è l'nv20 e il terzo è l'nv25 poi ho preso altri liquidi concealer perché non ci bastano mai nella colorazione 101 e 103 il 101 è un beige ed è questo per adesso non lo apro perché proverò questi qua e poi ho preso il 103 nella colorazione peach quindi che sono in questa confezione così piccola e sono uno più chiaro uno più scuro sempre poi andiamo avanti perché faremo tardissimo ho preso due ombretti di questi qua però questi non li apro perché non so se li tengo o li regalo sinceramente li avevo presi perché erano scontati a prezzi bassissimi e sinceramente questi qui capita di fare dei regali quindi li voglio lasciare qua dentro e sono indelebli stick e shadow sono degli degli ombretti in stick per quanto riguarda gli occhi ovviamente perché sono ombretti allora abbiamo lo 03 e lo e il 104 e lo lilla lo 03 e il 104 questi non li sboccio perché non so se tenerli o meglio poi abbiamo un altro correttore questo qui ancora sigillato ovviamente non lo apro perché ho già aperto quelli e sono abbastanza nella colorazione 02 medium e ho preso questo qui nello stick che se non mi sbaglio è a penna che si deve premere non lo so poi vediamo poi ho preso delle matite nere perché l'alizzi mi aveva detto di prendere delle matite nere e quindi ho preso la intense e i pencil 12 black poi ho preso l'intense e i pencil 11 satin gray questo mi serviva e poi ho preso la wonder proof e i pencil extreme black quindi extreme proprio al massimo quelli sotto consiglio dell'alizzi e poi invece della linea questa qui verde ho preso anche la la matita all'interno dell'occhio color burro che sarebbe questa qui color burro e poi ovviamente quando faremo la full face la proveremo poi ho preso una matita di queste qui first stroke o si first io con l'inglese first stroke credo che si comunque ho preso una matita di queste qui le colorazioni le sapete perché io adoro queste colorazioni questo è il colore e quindi proverò anche questa e poi ho preso queste due matite che sono della linea nuova sinceramente le ho volute prendere proprio per provarle e se mi sbaglio è sempre della linea del real del lip pencil ma comunque ho preso queste e ho preso la 06 burgundy e lo 04 chest knight quindi la burgundy ve la faccio vedere che è questa questa qui è la burgundy e accanto metterò chest knight che è leggermente più marroncina vedete queste due sono queste matite che dicono che siano ottime quindi ovviamente che fanno li provi ovvio che li proviamo proviamo tutto noi tutto proviamo tutto allora andiamo ai rossetti ho preso una valanga di rossetti perché ho fatto il decluttering che voi vedete dopo ho fatto il decluttering quindi mi servivano dei rossetti ho preso questi due che sono just nude che è lo 02 just nude si mi è scappato il packaging di questi rossetti è così e questo è il colore ed è un nude vediamo dove ve li posso mettere qui ed è un nude adatto proprio alla matita che ho preso chest knight e questo è il nude nude che va sul marroncino poi ho preso lo 03 light move banale packaging uguale ed è un malva ma dai ed è questo colore qua poi mentre c'ero c'era ah scusate c'era anche il terzo che è lo 01 al al na naked il naked sempre nella stessa che ve lo dico a fa' stupendo questo è il mio preferito dei tre ed è questo e che mi servivano altri rossetti capito poi ho preso uno di questa linea che è il creamland di questo qua e ho preso lo 03 deep nude ed è il packaging è così molto molto carino sinceramente questo video durerà un'infinità e il colore è questo ed è un nude a me stanno piacendo tantissimo questi colori io lo so che sembrano poi tutti uguali ma sinceramente mi sono piaciuti ed è questo ed è una specie di marroncino bruciato adoro specialmente che faccio dei trucchi un po' più particolari questo ci sta benissimo veramente molto molto bello poi ho preso i mattificent 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 e i matt mellow perchè ci sono delle linee allora ho preso cream cream dream matt mellow e mattificent quindi andiamo con il primo che è il cream cream dream cream dream nella colorazione 0 3 0 3 0 3 0 3 nella colorazione 0 3 cloud rose il packaging è così e già ti richiama tantissimo il rossetto che è questo e vi faccio un rouge watch no prendili dei colori uguali va sono belli cioè a me piacciono per lo meno io ho sentito parlare benissimo e quindi sono andata lì proprio a prenderla poi con il 70% è un'occasione cioè io ormai è difficile che prendo le linee a prezzo pieno perchè preferisco prenderle direttamente scontati poi ho preso della linea matt mellow mellow il 114 che è un sweet sangria questo è il packaging è nero opaco molto carino sinceramente il colore è questo bellissimo poi sempre della matt mellow ho preso il 115 cherry such such cherry sempre in linea matte io le adoro poi ovviamente questo è il colore l'avete presente i bambini quando entrano in una vedono le giostre è così sconti Stefania fa così si rincredinisce poi vi faccio vedere questi qui di mattificent e ho preso il 208, 209 e 227 banale Stefania il 208 è wild earth il packaging è sempre nero come quelli di poco fa il colore è questo ora voi mi dovete dire che non vi piace vengo e vedo botte specialmente nel periodo invernale questo è stu pe do stu pe do bellissimo non vedo l'ora di utilizzarli anzi iscrivetevi alla mia pagina instagram perchè sicuramente non dico ogni giorno ma una volta ogni tanto metterò questi rossetti sulle labbra e vi farò vedere proprio come stanno quindi se vi piacciono li potete anche prendere poi ho preso il 209 che è sangria pegajin sempre uguale questo è proprio bello opaco sul bullet è una cosa pazzesca e lì lo vede troppo fucsia non lo è non lo è questo fucsia cioè acceso come si vede là è un pochettino più spento io lo vedo troppo acceso è un pochettino più spento comunque è questo bellissimo poi sulle labbra un make up particolare e ciaone e l'ultimo ragazze l'ultimo che vi faccio vedere ragazzi e ragazzi che vi faccio vedere è il 227 gothic move poteva non esserci un malva? no bellissimo ed è questo stupendo questo e questo sono i miei preferiti cioè il terzo e l'ultimo sono i miei preferiti questi sono tutti e dico tutti i prodotti che ho acquistato con lo sconto del 70% per quanto riguarda Wicon sinceramente io vi direi di affrettarvi nell'andare acquistare questi prodotti perché sono uno più bello dell'altro sia per quanto riguarda i correttori perché dovete provare correttori a prezzi bassissimi per quanto riguarda i rossetti cioè c'è una linea pazzesca io ovviamente mi baso sempre su questi colori perché sono i colori che a me piacciono di più non mi vedete con un fucsia tipo il candy amiamo perché nella mia carnagione con i miei colori non ci starebbe però sinceramente questi rossetti devo dire la verità mi sono piaciuti tantissimo e ho acquistato proprio tutti questi pezzi perché col 70% sinceramente mi sono arrivate diciamo a pochissimo prezzo oltre ad avere lo sconto del 70% e altre cose direttamente dal sito io ho avuto un ulteriore sconto invece i rossetti che li ho presi allo store oltre ad avermi fatto lo sconto del 70% io nella scheda avevo altri sconti quindi mi sono venuti ancora di meno quindi io vi consiglio sinceramente di andare a vedere sia dal sito sia direttamente allo store perché se non acquistate con lo sconto sinceramente non so che dirvi io li adoro mi piace tantissimo anche la confortevolezza che hanno sulle labbra poi hanno una svariata cioè sono ottimi come diciamo tipologia di colore ce ne sono tantissimi e quindi vi potete anche impazzire nel scegliere il colore per quanto riguarda questo video è tutto io non so che dirvi io ovviamente vi invito a fare acquisti per aiutare l'economia io ditemi ovviamente se avete gli stessi colori se avete altri colori da consigliarmi scrivetemi giù nei commenti che ovviamente vi leggerò come sempre io per quanto riguarda questo video vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao